le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 2 novembre ariete sarete alle prese con qualche scaramuccia d'amore nella coppia può esserci il bisogno di chiarire alcuni punti su cui spesso vi trovate in disaccordo con il partner toro la luna in capricorno ha sempre il potere di aprire la vostra mente per questo vi ritroverete a parlare di viaggi di nuove esperienze professionali di orizzonti da esplorare gemelli ci sono delle situazioni professionali che vanno messe bene in chiaro voi avete bisogno di maggiore libertà la luna favorisce un chiarimento cancro questa luna non è il massimo per la vostra forma fisica dovete sempre essere prudenti in ciò che fate e soprattutto cercate di essere disciplinati nel regime alimentare leone oggi la vostra prima preoccupazione deve essere il lavoro perché in questa fase rischia di sfuggirvi qualcosa non fate drammi se un progetto stenta a decollare vergine una luna fantastica in capricorno mette in piena luce un rapporto sentimentale che vi sta regalando dei momenti indimenticabili vi sentite appagati felici bilancia è una giornata ideale per impostare un nuovo dialogo in famiglia nella coppia sul posto di lavoro sapete essere molto convincenti quando esponete le vostre idee scorpione venere nel vostro segno la luna è amica è una giornata molto importante per il rapporto di coppia alcuni di voi potrebbero prendere delle decisioni definitive sagittario giovane il vostro segno è semplicemente straordinario perché vi rende molto più docili affascinanti ma anche fortunati marte favorisce gli incontri sentimentali capricorno una giornata fantastica grazie alla luna che parla d'amore di emozioni inattese di stimoli nuovi che hanno il potere di ridarvi entusiasmo in amore sul lavoro acquario in amore continua la fase rivoluzionaria tagliate tutti i rami secchi chiudete le storie inutili e soprattutto fatevi un lungo esame di coscienza pesci quando i dubbi diventano troppo pesanti da sostenere confidatevi con un amico la giornata è strepitosa per parlare d'amore la serata vi regalerà momenti fantastici e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus